buongiorno a tutti e benvenuti su scudere oggi vi parlo di questo appartamento con ingresso indipendente è un appartamento in piccola palazzina ci troviamo a casarza ligure sulla prima collina di casarza appartamento è composto da ingressolini in soggiorno e cucina due camere da letto bagno terrazzo e abbiamo anche una grossa taverna e un box auto un box auto che però è un box auto molto grosso con la possibilità di mettere una o più moto più l'auto ecco adesso siamo all'interno dell'appartamento stiamo visionando il soggiorno soggiorno e cucina come vi ho già detto ovviamente a riscaldamento autonomo le spese condominiali sono pressoché nulle ecco qui vediamo l'angolo cottura che comunque una cucina americana andiamo a visionare la prima camera da letto questa è la camera dei ragazzi la camera si espone sul terrazzo da dove c'è il resto della casa come avete visto anche dall'inizio del video è possibile veramente fare grigliate mangiare all'esterno perché un terrazzo è veramente molto importante ecco questa invece è la seconda camera di letto la camera matrimoniale vi ricordo che ci troviamo sulla prima collina di casarza con un'ottima vista aperta l'esposizione è come sud ovest quindi molto soleggiato scaldamento autonomo ingresso lì in soggiorno cucina due camera e bagno taverna che adesso prendiamo a vedere e in più abbiamo un box molto grande con questo abbiamo terminato io vi ringrazio di aver visto questo video con scudorè e alla prossima scudorè protegge il tuo sogno immobiliare scudorè e scudogold verso la giusta direzione realizzare il tuo sogno immobiliare immobiliare